Guarda, prova a fare come nei film che si salta direttamente a cavallo. Pronta? Vai, vai, vai! Ce l'ha fatta davvero! Ci stanno rubando il cavallo! Ma ce li possono rubare? E mi ha pure ucciso investendomi! Come devo fare? Devi essere mirata. Eccolo! Aspetta! Guarda! Non ci credo! E ragazzi, come va? Io sono Feriniki. E io sono Steph. E questo è Gigi Crema Roblox. E andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno. Che per oggi sono Andrea, Beppe, War Dimension, Roman, Adele e Federico. Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione. Vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri sei eroi. Allora, prima di tutto dobbiamo fare gli auguri a Magic Simmer che ci ha chiesto di salutarlo dato che compie tre due anni. Quindi auguri! E questo oggi ragazzi siamo su Roblox. Prima di tutto vi vogliamo dire che domani ci sarà il secondo raduno. Quindi venerdì, domani è venerdì sì. Domani è venerdì sì. Ok, mi ricordo va bene. Alle 16. Quindi venerdì alle 16 c'è il nuovo raduno. Seguiteci su Instagram perché lì vi spiegheremo come si entra nel server. Lo facciamo domani mattina. Un piccolo video per spiegarmi come si entra nel server. Esatto. Così non avete problemi e riuscirete tutti ad entrare e a giocare con noi. Siamo pronti? Che poi vorrei dire che anche se questo non è un raduno siamo comunque tutti. Tutti i consolini, sempre tutti i consolini. Quindi appunto anche se non riuscite a entrare ad uno vi potete sempre unire. Certo, l'importante è che ci agitete gli amici e a quel punto potrete sempre entrare quando noi giochiamo. Io prima di iniziare ci tengo a dire una cosa. Ok. Voglio dirle molto importante. Signor Maialino che ricordo è l'animaletto che sta sulla mia spalla è molto felice di fare questo Tycoon. Sai perché? Ahà. Perché proprio come nel vecchio Far West è un Tycoon basato sia sulla gestione ma anche sul rubare i soldi degli altri player. Quindi è felicissimo perché è basato molto sul PvP e si dovrà ammazzare tutti. Esattamente. E lui che è felice e non io. Spieghiamo all'uolo come funziona. Praticamente alla base è un classico Tycoon ambientato nel Far West. Piano piano. Ah, non abbiamo detto la cosa più importante. Si gioca in due. Ognuno ha la sua parte da gestire. È vero. Infatti guardate. Questo non l'abbiamo detto. Siamo in due. Questa cosa è fantastica. Dicevamo praticamente noi iniziamo con un Tycoon classico. Appena costruiamo il secondo piano si forma una cassaforte. Quella cassaforte potrà essere rubata dagli altri giocatori che ci sono nella mappa. Mentre noi potremo rubare le cassaforti altrui portandocela appunto alla nostra. In questo modo faremo dei crediti con i quali possiamo comprare tante cose. E siccome io ho già nerdato al gioco ho un coltello adorato. Guardami. Uh. Ma ti rimane anche nelle altre partite. Sì, certo. È per sempre. È una filata. Non lo sapevo questo. Quanto costa? No, costa tanto. Soprattutto l'obiettivo di oggi è prendere il cavallo. Ah, io comunque ho già i crediti dell'altra volta. Ho duemila crediti. Bellissimo. Ma com'hai accidenti fatto a fare tutti questi crediti? Io ne ho solo settecento. Ho messo un sacco di gente, ragazzi. Non vado fiero di ciò che ho fatto l'altro giorno. Signor Maglialino invece è molto fiero di te. Ha detto che è proprio fierissimo. Ha detto che forse stai iniziando a stargli simpatico. Io con lui non ci parlo. Allora ha detto che ti odio, ok? Ok, va bene. In questo momento comunque la mappa è da otto, ragazzi. Siamo sette consolini. È davvero fantastico. Ogni volta entrare nelle mappe e vedere così tanti di voi che vogliono giocare con noi è fantastico. Ma guardate la cosa più bella. Produciamo banconotte col tycoon. È bellissimo, certo. No, è proprio come se fosse una banca ambientata nel far west. È bellissimo. Io adoro quell'ambientazione far west. Uccidirò, uccidirò. Sta andando a zigzag. È bravissimo. Ok. Bravissimo, non riuscivo a prenderlo. Hai fatto tu i cinquanta crediti? Sì. Perché ragazzi, praticamente... Sì, 750 adesso. Ad ogni kill ci dà cinquanta crediti. Mentre se rubiamo la cassaforte di un altro ce ne dà cinquecento. Quindi ammazzare è utile, però è ancora più utile puntare alle cassaforti. È più utile rubare le cassaforti. Dobbiamo fare l'upen. È bellissimo, è bellissimo. Io posso potenziare un po' di roba. Allora, vediamo un pochettino cosa facciamo. Allora, posso comprare qualche altra cosa. Vediamo questo. Io mi compro i muri, perché così le banconotte non cadono. E poi mi compro questo, che non mi ricordo mai che cos'è. Ah, forse ho comprato la seconda cosa. Fai vedere? Sì, sì, sì. Guarda che bellino. Sì, la seconda produzione, giusto? E quindi io faccio così. Vediamo che cambia. Non è cambiato nulla. Ah no, ok, ok. Guarda, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Guarda cosa ho aggiunto. Il bottone da premere per fare ancora più soldi. Ah, il bottone da premere, sì. Sì, la prima volta che ci ho giocato ci ho messo una vita a vederlo. Perché è diverso rispetto agli altri. Il romano è piccolino lì, quindi è un po' complicato. Quindi io adesso rimango così a premere. Non puoi mettere il signor Maialino a premere il tasto a posto mio? No, no, perché lui è un signore. Lui non si scomoda. Ah, è... Lui dà solo consigli. Quindi è inutile. No, dà solo consigli importanti. I consigli sono molto importanti. Ma non è vero. Certo, altrimenti come farei ad avere idee malvagie, scusa? Come farei senza signor Maialino? Comunque ho notato che sono entrate altre persone. Così abbiamo completato tutti i take one. Esatto. Quattro squadre, otto consolini, guerra nel far west. Guerra tra consolini. Sarà epico. Prima di tutto però abbiamo bisogno di fare i soldi. Io vi faccio vedere, ragazzi, nel mentre, lo shop che c'è appunto con i crediti ammazzando i player. Vai, vai, vai. Andando in cavallo, abbiamo un cavallo, il Dark Horse, che ti fa andare cinque volte più veloce rispetto al normale e costa cinquemila crediti. E vabbè, però. Io ne ho duemila, quindi non è male. Sennò c'è quello da quindicimila che è per due. Così andiamo insieme a cavallo. È bellissimo per due. E costa troppo, però. Ma è bellissimo. Eh, lo so, ma non so se possiamo permettercelo. Probabilmente riesci a prenderlo dopo aver giocato molte, molte, molte partite. Eh, direi. Capite, ok. Ne è un po' un problema. Avendociuto molta, 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 molta gente. Esatto. Ho rubato tanti, tanti, tanti soldi. Guarda, 800 soldi. Ma com'è possibile che la tua produzione migliore della mia? È perché clicco come un pazzo. E io non ce l'ho ancora. Quindi aggiungiamo questo. Il bottone. Upgrade, vai. Poi, praticamente, aggiungiamo questo dropper e guardate un po', si formano. Dropper? Eccolo. Ah, ecco, ok. Si formano i soldi anche sopra. Praticamente va tutto verso l'alto ed è troppo frigo. Sì, diventa una produzione gigante, molto, molto bella. Allora, sono riuscita a prendere il tasto anch'io, così posso aumentare un po' la mia produzione. Ah, ok, ok, bravo. Così mi muovo a comprare le cose. Anche perché abbiamo le prime armi da comprare qua, non vorrei dire. Ah, intanto io c'ho il coltello, sinceramente. Eh, ma c'è la spada, la spada è la mia preferita. Ti piace? Un coltello, beh, è un colpo e one shot. Colpo secco, morti tutti, tagliati a fettine, quella è la cosa più bella, è vero? Sì, sì, felicissima. Allora, posso comprare i muri anche per la seconda parte, infatti guarda com'è molto più carino. Ok, mi piace tantissimo. Io mi rimetto a cliccare come un pazzo. Anch'io, sto facendo la stessa cosa, così almeno faccio un sacco di soldi. Anto Samu ci sta provando ad attaccare. E si sta vendicando. Si vuole vendicare. Sparalo. Sparalo, sparalo. Deve scappare, deve scappare, li lancio i coltelli, sono miratissimo, l'ho colpito. Guarda, lo sto colpendo anch'io. È bassissimo, dai, 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 è l'ultimo colpo. Fatto, fatto. Yuhu. Come ti vorrei far notare che in chat Oldino Figo ha scritto viva il signor maialino. No, 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 ha scritto mare. No, l'apprezzano tutti. Era viva il mio cagnolino. Non è vero, c'è scritto, c'è scritto, l'hanno letto tutti, il signor maialino sta conquistando i cuori di tutta YouTube. Parliamo di cose importanti. Guarda quanti soldi abbiamo, già 2400 dollari. Sono tutti fan del signore maialino, questa cosa non mi va bene. Non mi va bene per nulla. Sei un po' geloso, vero? Sì, assolutamente sì. Lo sapevo, lo sapevo. Guarda quante cose mi sono comprato, adesso ho la terza produzione in alto. Bravissimo, io lo stesso la sto aumentando, guarda. Ma cadono questi? Stanno un po' cadendo anche questi, devo stare attenta. È un problema. Stiamo perdendo soldi. Ma guarda, l'inchi vi stanno volando giù, non riesco a capire. Aspetta, le mura, sono le mura. Oh, ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Uh, belle le tue mura. Sì, è figa questa parte. Stai facendo una scrittura. Hai notato che proprio abbiamo parti diverse del Tecunda a gestire. Sì, è totalmente diverso in che i soldi sono ognuno per sé. Quindi alla fine è una squadra o non squadra come piace a noi. Perché a noi piace essere in squadra ma non esserlo allo stesso tempo. Esatto, esatto. Ok, è ora di iniziare a costruire un po' della base. Noto già che più avanti il team blu si è già fatto le mura, quindi dobbiamo stare attenti. Come ci dite l'ho fatto? L'ho fatto un sacco di soldi. Allora, ho comprato la parte interna, adesso le mura e upgradiamo le mura. Bellissimo. Allora, vieni a vedere, vieni a vedere. Vuole un po' di banconote? Sì, li vorrei nella realtà, tipo appuntati qua nella scrivania, purtroppo. Secondo me stessi sempre felice così. Guardami, guardami, sto facendo il bagno nei soldi, guardami. Ma smettila. C'è qualcuno, c'è qualcuno, aiuto. Picchialo, picchialo. Non ho proiettili forse, sì, sì. Un intruso, uccidiamolo. Anche un altro, c'è un altro. Stanno iniziando ad attaccare coordinati. Sì, stanno iniziando ad attaccarci. Aia, mi stanno stavendo come si deve. Aia, aia, mi sta facendo malissimo. Devi decidere prima Ant Samu perché è lui basso. Ah, non è ancora morto? No. Io mi sono messo in prima persona, sembra un po' più comodo per sparare. Mori? Dici? Mori? Eh sì, in effetti sì. Vero? Ok, Ant Samu è morto, Ant Samu è morto. Manca solo l'altro. Forse ho capito una cosa. Una cosa importantissima. Ritirei i tuoi soldi. Vado? Dovevo provare. Se ho ragione, se ho ragione, se ho ragione. Che bellina è diventata questa parte? Sì, è vero. Molto carina. Ci sono tutti barilozzi. Sì, ma no, manca la mia, che non l'avevo mai vista sta partita. Scusa, fai upgrade walls qua? Che questo te lo puoi permettere. Sì, lo so, lo so. Prima non lo potevo fare, quindi ho aspettato. Ecco qua. Ora sì che si ragiona. Vieni. Che dobbiamo fare? Io ho notato una cosa che l'altra volta non ho notato e credo di aver ragione. Adesso ci proviamo. Ma non so cosa stiamo andando a fare. Tu seguimi. Tu seguimi. Ok. Prova a salire qua sopra. Perché? Prova a salire. Sììì. Oh mio Dio. Avevo ragione. Praticamente sta nella parte da me, però lo puoi comprare tu. Quindi io l'altra volta provavo a comprarmelo da sola e non potevo. Anch'io l'altra volta ho fatto la tua parte di Taekun perché l'abbiamo fatto separati. Provavo a comprare la stalla e non ci riuscivo, quindi pensavo fosse una cosa che si sbloccasse coi crediti. Invece no. È bellissimo. Arrivaremo ad avere i cavalli? Perché c'è una ragazza con la spada Una Jennifer selvatica che cerca di ucciderci In realtà poverina è la pacifica Però ragazzi ci danno crediti Dobbiamo uccidere i consolini anche se non siamo felici Ma mi sono staventato ho pensato Mi stesse attaccando Non è vero Hai soltanto voluto uccidere Aspetta Mi piace un sacco Come cambia tutto appena li compri una spada Come divento felice Altro che gioielli Vedi i regali che mi devi fare Le spade Siamo super armati adesso Allora il tuo obiettivo è fare 5.000 e comprarci il cavallo Non ti dico altro devi fare solo quello Quindi mollo la produzione mollo tutto Sì 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 non me frega più nulla Ora c'è solo quello Che poi io ho già i soldi per il secondo piano Ok però se compriamo adesso il secondo piano Dobbiamo iniziare a difenderci Quindi secondo me Secondo me è meglio aspettare un po' Allora conta che i blu hanno già la cassaforte Quindi loro sono già più avanti Allora io ti dico Perché non andiamo Ah no perché non abbiamo la banca No 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 possiamo rubare se noi non l'abbiamo Aiuto Che succede? Ci sono i rossi No Nasconditi nasconditi Ma che nasconditi Ma che nasconditi Ecco è morta Vero? Vero che sei morta? No Non ancora adesso sì Ma Aldino l'hai ucciso? Sì sì Bravissima Uno sì l'altro no Era due contro uno Ci hanno fatto un bel attacco Ok ho ucciso anche l'altro Mi sono accorta infatti Vabbè sono bravi eh Sono stati bravi Sono stati bravi Mi è piaciuto il loro attacco L'ho apprezzato molto Allora riprenditi la spada Perché se arriva qualcun altro Deve essere pronta a difenderti Ho i 5.000 per il cavallo Andiamo a prenderlo Andiamo a prenderlo Cavallo 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 Ma ce lo possono ammazzare? Questo ancora non l'abbiamo visto Cosa? Ce lo potranno ammazzare? Non ho idea Sarebbe tristissimo No spero di Uh guarda che carini Oh mio dio Io voglio questo bianco Ma sono morta Cioè perché sto prendendo un sacco di danno? Ti eri incastrata Vai Ma c'ho senza vita Vieni vieni Tanto la rigeneri Guarda che belli che siamo Che persona ci sviene No anche il mio Guarda Abbassa la testa Abbassa la testa Ma posso avere anche la spada? Guardami Andiamo 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 ai verdi Andiamo ai verdi Andiamo Alla carica È bellissima questa cosa È velocissimo comunque È velocissimo Guarda No sono scesa Guarda lo prendo alle spalle Pam ucciso Vai anche l'altro Anche l'altro Infame per te sono le lame Stanno usando le rime contro testa su di noi Penso che sia per te L'ha censurato il nome Non so se fosse per me O per te Secondo me era per te Per te Secondo me era per te Ok Adesso abbiamo la cassaforte Ora diventerà difficile difendere Vedete ragazzi Questa è la cassaforte Loro la possono colpire Per distruggerla Come si distrugge Si apre E ci rubano i soldi Se riescono ad arrivare Con questi soldi Fino alla loro base Ci rubano 500 crediti Quindi dobbiamo stare attentissimi Miraco Concentrata Spietata Ammazza tutto quello che si muove Tranne me Vieni a vedere il mio dropper Scusami Bellino Lo vedo È una cascata Ho comprato il dropper E mi piovono soldi dal cielo Ma cosa si può volere di più della vita Esatto Il tuo sogno Sempre stato il tuo sogno No penso che sia il sogno di chiunque Scusa Hai ragione Far piovere soldi dal cielo Ma se ti lascio l'incarico di difendere la base E provo la prima rapina Che dici Ho paura Lo so Lo so Però tu stai sopra Avvicina alla scala Se uno sale lo tagli subito Ok Ci sto Ci sto Io prendo Cosa sta facendo Ci stanno rubando il cavallo Ma ce li possono rubare E mi ha pure ucciso investendomi Cioè possiamo uccidere le persone investendole col cavallo Sì È il mio momento Sono pronto a fare una rapina Punto e blu Perché mi ha rubato il cavallo E mi devo vendicare Ok Spero che non mi noti Spero che non mi noti Sì 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 Sta andando in questo momento ad attaccare i rossi Quindi non mi ha visto Salgo le scale Vai 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 Oh cavolo Oh cavolo Per qualcuno? Sì uno Se ne ha corto? Per ora no Sto cercando Continuo a far finta di nulla e prendi i soldi Uno Due Tre Quattro Prendo Non se ne ha corto K Fai silenzio Fai silenzio Corri Corri Posso salire? Sì Oh mio Dio che cosa bellissima Andiamo mister cavallino Io ti aspetto Da noi non c'è ancora nessuno Ti aspetto Non mi hanno notato Sì Prima rapina completata Penso che però Ora se ne stieno accorti Perché una volta che prendi la borsa Sì Appare la vita Sì esatto Appare la squadra Cioè che ti dice proprio la tua borsa è stata rubata E adesso verrà annunciata a tutti che noi abbiamo completato una rapina Vai 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 Pronta Ole Bellissimo Bellissimo Yeah Siamo a 2000 Che emozione 2950 crediti Allora adesso che abbiamo fatto questo loro si vorranno vendicare Assolutamente dobbiamo preparare le difese Dobbiamo preparare per le difese Dimmi che abbiamo i soldi per mettere i muri No Ancora no Dobbiamo aumentare la produzione perché facciamo troppi pochi soldi Infatti io sto raccogliendo i soldi per aumentare la produzione qui sopra Perché ho anche dalla mia parte le mura che costano 20.000 Altrimenti non le finiamo più guarda Che ragazza saggia Lo so sono molto saggia Allora Upgrader Upgrader così faccio molti più soldi Ho ancora 8.500 ci sparano Non so da dove però Da dove? Non lo so Dove ne ho nessuno Forse qua sotto Dove? Non lo so Devo andare a pranzo sono FK Ok Oglino non c'è quindi del rosso è più facile fare una rapina Ma no Cioè ma che brutta persona che sei Lo sai mi conosci Non so sei proprio una persona bruttissima Iuto ci attaccano Ok ok tutto bene Ti ho visto per la fettina Era uno dei blu quindi vado a vedicarmi Guarda prova a fare come nei film che si salta direttamente a cavallo Pronta? Vai 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 Ce l'hai fatta davvero Fantastico Oh mio dio Ora che ce l'ho fatta Devo riuscire ad andare a rapinare di noi blu Perché siamo a 3650 abbiamo deciso Che visto che i cavalli ce li abbiamo E 5 volte più veloce alla fine Non è così importante Comunque è anche abbastanza veloce Quindi diciamo che non va poi così lento Sapete cosa vogliamo? Vogliamo comprare per 6000 crediti la dinamite Sì Sì La dinamite per far esplodere i consolini Che brutta cosa Signor maielino vuole far esplodere tutto Quindi bisogna contentarlo Altrimenti si arrabbia Te lo dico Te lo dico Non sono io eh È sempre lui Ho capito Sì 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 Tu sei sempre brava e gentile Certo Aiuto No sono caduto Aspetta appena gira Appena gira E sono uno contro due Non è facile Lo taglio Ok 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 Uno contro due Ho vinto la battaglia Devo ricaricare e bucare la cassaforte Ho quasi finito i colpi per Per bucare Ce la devo fare Ce la devo fare Ok Ok adesso La persona è dietro di te Le vedo già da qui guarda Dall'alto Che succede? C'è qualcuno? Ci stanno assaltando? Sì Mi raccomando eh Mi raccomando Non proiettili No non è possibile Sta sparando Sì 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 Ok Ogni tanto non spara Cioè non so perché appena lo metto non spara No vabbè il cavallo va pure in retromarcia Questa cosa è bellissima Non ho parole Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ok attenta perché ce ne sono Altri due di sotto Eh ho paura infatti Mi stanno vedendo con i soldi Arrivano da sotto Arrivano da sotto quindi da dentro Aiuto C'è pure gente che mi spara perché Ho visto il proiettivo infatti È un casino Vai 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 Qui 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 Qualcuna Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce ne sono altri due non ci credo Non ci credo Eh beh ce lo meritiamo Ce lo meritiamo non ti puoi lamentare Aspetta arrivo Vai che l'ho colpita l'ho colpita Uccidirò Uccidirò Non ci arrivo Corre troppo Sparo Ok è morta Uff L'ho dovuta sparare Lui 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 Che fatica ragazzi Vai vai Ok l'ho colpito Perfetto Dai Dai No sta scappando Guarda come scappa Lo so La pistola che ricarica Accidenti Se ne vuoi andare Ok no no Ho fatto una finta Ucciso Ok 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 Ce l'abbiamo fatta Ci siamo difesi Aiuto Erano tantissimi Che fatica Non mi uccidere Non mi uccidere Lo colpisco Non se ne vuole andare Non se ne vuole andare Ok ok Non ci credo Cosa L'hai presa lui No io Ah bastava che Andassi qui sopra L'ho visto a sparire Mi sono spaventato Ok ok Ce l'abbiamo fatta Ci stanno saltando Assaltando in quattro Allora devo andare Già a prendermi Pistola Dove sono le scale Accidenti No aspetta Aspetta Che succede Posso comprare La dinamite Prima che loro Ci assaltino L'ho comprata Sì 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 Aspetta No devo prendermi Le armi Perché non mi posso Difendere altrimenti E poi mi fai vedere Come funziona la dinamite Assolutamente Aspetta che arrivo Uh manca il fucile Mi hai preso Sì te l'ho comprato prima Eh fa schifo Come fa schifo Sì Costa un sacco di soldi Ne fa pure schifo Ma come è possibile La sto provando Costantemente Però Ci mette tantissimo Ad esplodere E quindi Non ci faccio Neanche danni Ma no È una delusione Lo so Lo so Uccidi questo Ok Credo di poterla vendere Aspetta Se il gear Seleziona la dinamite È una presa in giro Vero È una presa in giro Se la posso vendere Per cento crediti Ormai tienitela Cioè che devi fare Che devi fare Ormai Ho buttato Seimila crediti Che Ho fatto con tanta fatica Non ci credo Mi ho rubato il cavallo E sei morta? Cioè Oldino Poi mi ha ucciso Ho capito Che dei rossi Perché? E ti ha rubato Perché? Ti ha rubato la sacca Non mi puoi fare questo Non mi puoi fare questo Grandissimo Oldino Cerco di bloccarlo A metà strada Capito È stata una contro rapina Questa Sì esatto Aspetta Ce la posso fare Ce la posso fare Vai Vai Recupera quello che ho iniziato No 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 C'è troppa gente Vattene Vattene Io ci rinuncio sinceramente Lasciamo perdere Sì 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 Ormai è dei rossi Ce l'hanno rubata Accettiamolo E pazienza Così almeno odieranno i rossi adesso Odieranno i rossi Però non sia bruttissima Esattamente come la dinamite Ci vediamo alla nostra cassaforte Perché ti devo far vedere una cosa Quindi c'è Io adesso prendo E intrappolo le persone Con la prigione portatile È fantastico È davvero fantastico Che fai tu nel mentre? Eh sai Difendo la nostra Arrivo 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 Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Oh mio dio Che bello Questo è stato bellissimo È stato epico Te lo giuro Allora Guardami Aspetta E quindi Se arrivi addosso a un player Lo puoi Guarda me Cos'è? La torta La puoi lanciare in faccia alla gente Oh mio dio La torta addosso Questo Ti ho intrappolato Oh mio dio Ho fatto intrappolare anche a te E come la levo? Aiuto Aspetta La devo rompere? Toglila Non si può Ok Forse dura un tot di secondi Ah vabbè sì Alla fine li puoi intrappolare Uccidere A te non ti posso uccidere Perché siamo Andiamo a provarla Quindi possiamo fare così Andiamo a provarla Andiamo è bellissimo Ma non mi frega più nulla Niente di difenderci Andiamo all'assalto in due E spacchiamo qualcosa Poi lo facciamo esplodere Con la dinamite Dai Non ce l'ho fatta Perché mi è farita Riclicca 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 Come devo fare? Devi essere mirata Eccolo Aspetta Guarda Non ci credo Fantastico Vedi Oh mio dio Oh mio dio Si sparano Si sono accorti che siamo nella loro base Taglio a fettine No L'ho mancato Mi hanno ucciso Anche a me Ti volevo dire una cosa Sì? Che vedi Adesso con la mia prigione Risulta utile la tua dinamite Non è più una cosa inutile Bellissimo È stata la kill più bella di sempre È stata una cosa fantastica Passerà la storia Come la kill più epica di sempre Assolutamente Vedi almeno è utile Mi piace questa combo È davvero una bella cosa Mi piace davvero tanto E io poi ho le torte Guarda che bello Guarda che bello È gigante È bellissimo La cosa più bella ragazzi È che io ogni volta che esso torno in vita Ho la starter pistol Il mio coltello dorato La dinamite E anche la torta Quindi è una figata Io avrò la prigione per sempre Quella ce l'avrò per sempre Quindi se volete magari tipo Tra qualche settimana Volete magari un altro episodio Noi avremo già queste cose E quindi potremo arrivare ancora A qualcosina di più figo Tipo un cannone O cose del genere Esatto Io voglio puntare a fare tutte le armi Comunque sono felice Che almeno siamo riusciti a farci i cavalli Cosa che non eravamo riusciti Non ce l'aspettavamo proprio Di poterlo fare A fare quando l'avamo provato Sono felicissima Mi piace davvero Troppo Ma prima di finire il video Andiamo ovviamente a salutare Gli altri nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Nico, Federico, Stregatto Evolution Domiettoni, Daniele e Mattirep Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi il video è felice così Se riuscite lasciateci un bel like E se è la prima volta che vedete un nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao ciao Grazie mille per la visione